Ciao, oggi vi presentiamo docenti digitali con G Suite, il corso di formazione ideato da WeSchool e Google for Education per supportare i docenti italiani nella didattica innovativa, nella didattica digitale, sia in classe che a distanza. Impareremo a trasformare le nostre lezioni. Le spiegazioni frontali su Leopardi diventeranno storie interattive con Google Slides. Le reazioni chimiche saranno sfide a punti con Google Form e la classe si trasformerà in una redazione lavorando a più mani su Google Docs, il tutto risparmiando tempo e organizzando il lavoro con Gmail, Drive e Calendar. Abbiamo coinvolto i migliori trainer Google e insieme ai progettisti di WeSchool abbiamo ascoltato voi docenti e pensato a un tipo di corso completamente nuovo. Per questo corso abbiamo pensato a una modalità veramente blended che unisce 5 lezioni live a distanza con i vostri colleghi, uno spazio di approfondimento su WeSchool dove potete ripassare e fare pratica quando volete e dei momenti di assistenza personalizzata sulle esigenze della vostra scuola con i trainer certificati Google. Tutto questo con un obiettivo accompagnarvi passo passo dal primo clic fino a realizzare una lezione più coinvolgente e più inclusiva. Ci vediamo in classe!